Oggi San Faustino è una giornata molto speciale, in particolar modo per i Bresciani, perché infatti San Faustino è uno dei patroni della città di Brescia, ma la saggezza popolare ci dice anche che San Faustino è l'ultimo mercante di neve e inoltre loca a San Faustino cerca il nido. San Faustino è l'ultimo mercante di neve, se la c'è alla gente, se la c'è via la compra, però nella tradizione popolare c'è anche il detto che l'occo la prepara al nido. Le ocche cominciavano già a prelevare il piumino sotto pancia per preparare il nido per covare. E difatti anche questo testimonia il fatto che appunto questa saggezza popolare in molti casi era contraddittoria, potrebbe sembrare contraddittoria. Il 14 gelava il ghiaccio nel mulino, il giorno dopo invece, quindi poche ore dopo, l'oca era già più propensa ad avvicinarsi al mondo della primavera che non a quello dell'invera. San Faustino è, come è noto, anche il patrono della nostra città, dove si svolge appunto lungo via San Faustino a Brescia, una festa popolare antichissima dove lì si riuniscono migliaia di cittadini e di gente di provincia. San Faustino è l'ultimo portatore della neve, quindi se il 14 il gelo da una parte incominciava a bloccare le ruote del mulino, mentre invece il giorno dopo se arrivava la neve era sicuro, diceva appunto la saggezza popolare, che sarebbe stata l'ultima dell'annata agraria. Se arrivava neve veniva a San Faustino e la vendeva, mentre se c'era la acquistava, vuol dire che tornava ancora il freddo.